Si è consumato ieri in Consiglio Comunale il divorzio fra il gruppo di maggioranza Masca-Licce e il sindaco Luigi Messina. Che vi fosse già aria di crisi e che ieri si sarebbe palesata con una frattura, il sindaco lo aveva subito percepito, chiedendo per tale ragione almeno una verifica di maggioranza per le valutazioni del caso, richiesta caduta nel vuoto. Così la seduta ha preso subito il via dopo una pausa di un'ora, essendo venuto meno il numero legale, con la dichiarazione al vetriolo del capogruppo Agatha Cardillo, che ha annunciato la fuoriuscita del suo gruppo dalla maggioranza consigliare, concretizzando la decisione in più punti. Mancanza di ogni iniziativa tendente ad eliminare l'inconveniente delle strade comunali ridotte a colabrodo, il triste primato dello 0% rispetto agli altri comuni riguardo alla raccolta differenziata, la mancanza di iniziative di grande respiro da parte dell'amministrazione, la prevaricazione dell'amministrazione rispetto alle prerogative del Consiglio, il divieto di accesso ai consiglieri agli atti fondamentali per la gestione dell'ente, la mancanza di trasparenza, tempi burocratici troppo lunghi che non vengono incontro alle richieste dei cittadini, nessuna politica che possa essere incentivo di attrazione per gli imprenditori esterni. In conclusione, si legge nel documento, il gruppo Masca Licea ha dichiarato di non essere più disponibile a perpetuare tale imbarazzante situazione creata dall'amministrazione Messina. Il primo cittadino non è certo stato a guardare il lento ma inesorabile smembramento della sua maggioranza, incominciata nel novembre scorso con la dichiarazione di indipendenza del consigliere e vicepresidente del Consiglio Alberto Cardillo e ieri con l'abbandono dei consiglieri di maggioranza Agata Cardillo, Carlo Galati e Giuseppe Priolo. La maggioranza del sindaco Messina si riduce a quella del gruppo Per Mascali, composto dai consiglieri Valentina Gullotta, Cristina Finocchiaro, Giuseppe Vitane e Laura Di Bella, dal gruppo Progetto Sicilia, composto da Paolo Virzi, Graziana Scandurra e Piero Bonaccorsi e dall'indipendente Caetano Portogallo. Stiamo lavorando, se il risultato di una gestione della nettezza urbana ancora oggi non è quella che deve essere ma è qualcosa che sta facendo il suo percorso come naturale e che era stato trascurato per otto anni, è ovvio che chi oggi ha un risultato in altri comuni che ha una differenziata funzionante, è da anni che ci lavora, noi è da un anno e mezzo che ci lavoriamo trovando un comune in una situazione completamente diversa da quella che deve essere un'attività gestionale realizzata attraverso la politica con la presenza che da parte dei commissari prefettizi che è stata nella massima trasparenza e correttezza ma che non era presente come doveva essere, come è presente questa amministrazione ogni giorno dietro gli uffici per cercare di dare quel senso alle attività con risultati evidenti che si vedranno nei prossimi mesi, con il risultato di aver ottenuto quasi 3 milioni di euro di finanziamento solo nella nostra amministrazione in un anno e mezzo. Abbiamo messo il massimo dell'impegno, il massimo della trasparenza, il massimo dell'onestà e tutto questo si vede negli atti, in un'attività che è trasparente e che è incontestabile. Pertanto ecco questo è il risultato dell'amministrazione che non è completo, che deve essere completo e giudicato nel corso di 5 anni. Ma chi ha fatto parte della maggioranza che ha un anno e mezzo critica l'amministrazione forse mette a nudo problemi che non sono quelli relativi all'aspetto amministrativo. Questa sera nuova seduta di Consiglio con la trattazione del punto relativo alla ricomposizione delle commissioni consigliari che da 4 potrebbero passare a 6. Le regole in quanto tali sono fatte per essere condivise o quando meno quando non si riesce a farle in maniera condivisa e le fa una maggioranza. Le fa comunque nel rispetto delle prassi, nel rispetto delle regole, nel rispetto della legge. Questo a mio avviso, e l'ho detto ieri in Consiglio Comunale, non avviene con una proposta di modifica delle commissioni consigliari che secondo la proposta che è stata portata ieri in Consiglio Comunale a modifica di quella precedente che era arrivata, che era 5 commissioni da 5 componenti. fare 6 commissioni da 3 componenti, quindi 18, escludere va bene il Presidente perché il Presidente va bene ed è giusto, escludere anche un altro consigliere che in questo caso sarebbe il consigliere Assessore Paolo Verzi, secondo me è una violazione di quanto prescrive il testo unico degli enti locali, di quanto prescrive il nostro statuto, di quanto prescrive il nostro regolamento secondo il quale tutti i consiglieri hanno il diritto di fare parte delle commissioni consigliari in quanto consigliere comunale. Grazie.